Musica Questo festival è un invito a riflettere, una mappa delle disuguaglianze fotografate nel loro peso oggi. Il ricco vive negli spazi sovranazionali dei flussi finanziari e il povero vive nei sottoscala degli stati nazionali. Ridare dignità al lavoro in Italia significa affrontare una riforma del mercato del lavoro. Abbiamo assistito negli ultimi dieci anni a una estrema flessibilità che ha prodotto una caduta verso il basso dei livelli retributivi. I problemi sono chiari, il livello dei salari, il livello di precarietà del lavoro. È necessario aprire una discussione per dare delle risposte compiute. Sono molto contento nel vedere che qualcosa sta cambiando. Il consumatore finale adesso vuole essere sicuro che i diritti umani in modo particolare siano rispettati in un'altra parte. Le disuguaglianze sono tra paesi e nei paesi. Non c'è nessun merito a nascere in un posto anziché in un altro. E quindi non basta combattere contro la povertà, contro la fame, contro il sottosviluppo. Bisogna anche ridurre il gap che c'è all'interno dei paesi. C'è una spiccata attenzione delle giovani generazioni a questi temi, che sono straordinariamente recettive al tema della disuguaglianza e lo hanno introiettato fin da piccoli. Questa è la nota positiva. Poi vedremo quello che succederà. Grazie a tutti.